E' questa la libertà? Cioè il problema che si pone Magni, che si è posto Magni, nelle tracciare, nello stendere questo libro è, dove è la libertà? Qual è la libertà? Esiste a questo punto la libertà? Perché considerando che noi siamo tutti più presenti perché siamo nati, ma non certo per volontà di nessuno di noi, ma per volontà di altri, perciò la nostra esistenza dipende dalla determinazione o indeterminazione o da benaggine di altri, d'accordo? Per cui noi non siamo liberi proprio per principio esistenziale. E poi dicevamo che...